In questo video vediamo come elevare la potenza su OpenOffice Quindi ora ho scritto 24 perché voglio scrivere 2 alla quarta Quindi scrivo 2 e 4 Poi per trasformare questo 4 in una potenza Non devo fare altro, quindi scriverlo piccino qui in alto accanto al 2 Non devo fare altro che sottolinearlo e andare su formato carattere Oppure cliccarci sopra con il tasto destro del mouse e andare su carattere Ora di default sarà posizionato qui su carattere Io mi sposto in posizione e da normale sposto su apice Qui posso stabilire le dimensioni che come vedete vengono fatte in automatico Però levando la spunta posso decidere autonomamente Dopodiché faccio ok e come vedete mi ha spostato il 4 a potenza Oppure se lo volessi spostare in basso dovrei spostare il puntino su pedice Faccio ok e come vedete non l'ha spostato in basso I tasti di scelta rapida per quanto... quindi parlando per la tastiera Quindi lo posso fare dalla tastiera premendo dei tasti senza fare questa operazione Quindi in maniera più veloce Devo premere CTRL quindi CTRL, SHIFT che è il tasto sopra il CTRL e quello con la freccetta in su E dopo... quindi premo CTRL, dopodiché tenendolo premuto premo SHIFT E poi tenendo premuto questi due vado a premere P Come vedete mi ha spostato il 4 in posizione di potenza Semplicemente la tastiera Mentre per spostarlo in basso faccio la stessa operazione Quindi CTRL, CTRL, SHIFT, B in questo caso Invece che P, B E me lo sposta in basso Se vado a riportarlo in posizione originale ripeto l'operazione Quindi in questo caso faccio CTRL, SHIFT, B E me lo riporta nella posizione originale Quindi per questo video è tutto e alla prossima